Una buona serata a tutti voi e bentrovati al consueto appuntamento con una speciale elezioni, riflettori questa sera appuntati sulla comune di Città Sant'Angelo dove l'8 e la 9 si andrà a votare per il rinnovo del Consiglio Comunale. Sono tre i candidati a guidare la città e ve li presento subito a cominciare dal sindaco uscente Matteo Perazzetti e poi al suo fianco Ugo di Silvestre. Grazie per la lista visione comune, salve Ugo e ancora Stefano Serracini, candidato sindaco ci sta Serracini sindaco, la lista che sostiene il sindaco uscente è la lista si amo. Entriamo subito nel merito e come si usa fare in avvio, si cerca anche di inquadrare bene i motivi per i quali vi siete proposti in questa avventura. Matteo Perazzetti, in qualità di sindaco uscente, chiaramente si vuole riproporre alla città. Noi ci riproponiamo la città proprio per proseguire quel processo di crescita che la città ha visto svilupparsi in questi anni, un processo di crescita che ha portato tutti gli indicatori del nostro territorio ad essere positivi, dal bilancio che era in sofferenza ed oggi invece esce da una serie di crisi, così come da quelle che possono essere gli indicatori della raccolta differenziata o in alternativa tutte le opere calate sul nostro territorio, che riguardano 30 milioni di Euro di opere pubbliche calate sul nostro intero territorio, ma soprattutto perché si è iniziati a costruire quella che sarà la città per il futuro e ci sono in itinere e in fase di realizzazioni importanti strutture e importanti progetti, così come il centro polivalente a Villa Cipressi che è stato finanziato nella sua progettazione e verrà finanziato anche nella sua realizzazione, o la fermata dell'autobus che è la zona di accoglienza del nostro centro storico che ha visto anche lì un suo finanziamento nella progettazione, o la riqualificazione di Marina di Città Sant'Angelo che è anche lì tramite il Pinqua che oggi è alla regione Abruzzo in fase di assegnazione per il bando per la riqualificazione dell'area costiera. Tantissimi finanziamenti presi per i progetti che svilupperanno e continueranno a far crescere la nostra città che questa amministrazione è riuscita ad intercettare per quell'asset Città Sant'Angelo-Lago e la Roma e quindi visti gli indicatori e visti comunque i risultati che si sono ottenuti, che abbiamo raccolto, una brochure che abbiamo consegnato alla nostra città che riguarda 100 pagine, sono indicatori positivi che noi oggi dobbiamo continuare a perpetrare per poter riuscire a rendere la nostra città protagonista dell'Internand metropolitano con ponte per l'area vestina. Diamo anche qualche indicazione biografica perché è giusto così, Matteo Parazzetti fisioterapista di 43 anni, ne ha 67 di anni invece Ugo Di Silvestre avvocato, candidato per la lista Visione Comune. Come ha deciso Di Silvestre di entrare in questa competizione? Di nuovo buonasera, ho deciso di entrare in questa competizione dopo tanti anni di attività forense che mi ha visto impegnato in vicende anche di un certo rilievo, però ho deciso che a un certo punto era opportuno che io potessi dare alla comunità di Città Sant'Angelo mettere a disposizione della comunità e dei cittadini la mia esperienza, la mia competenza maturata in tanti anni di professione, anche spesso a difesa di pubbliche amministrazioni in relazione alle quali ho svolto spesso l'attività di consulente e di avvocato e penso di avere la capacità di poter mettere a disposizione queste mie competenze per i beni di Città Sant'Angelo, dei suoi cittadini e del suo territorio. Non ci sono altri motivi che mi hanno visto decidere di candidarmi a sindaco nella misura in cui questo è solo un atto di amore e di generosità verso la mia città dove sono nato e cresciuto e non ci sono altri interessi personali, se avessi voluto scegliere di svolgere attività politica l'avrei fatto in passato con altre idee, anche se ho svolto già, questo è bene precisarlo, sia l'attività di consigliere comunale sia quella di assessore comunale a Città Sant'Angelo nella giunta dell'allora sindaco Catena. La nostra lista è una visione comune perché non solo abbiamo una visione comune all'interno della nostra lista, ma riteniamo che debba essere una visione che coinvolga tutta la cittadinanza, tutta la collettività in vista di un miglioramento, di un potenziamento di quelle che sono le capacità del Comune di Città Sant'Angelo che noi riteniamo siano ancora inespresse e che debbano avere ulteriore impulso per il prossimo futuro. Grazie. Grazie, 42 anni, operaio specializzato, ex portavoce del Movimento 5 Stelle, Stefano Seracini, perché ha deciso di proporsi alla cittadinanza di Città Sant'Angelo? Dunque buonasera, buonasera telespettatori, buonasera amici, buonasera a coloro che votano e che mi auguro che vadano a votare. Stefano Seracini, alias il sottoscritto personaggio eclettico, ha deciso di ripresentarsi esattamente nelle stesse vesti e nello stesso modo di fare politica, una politica che ci ha visto partecipi e come diceva il nostro precedente slogan, con proposte e non con proteste. Sono consigliere comunale uscente e come consigliere di minoranza difficilmente si possono realizzare e mettere in concreto delle cose. Aver avuto la possibilità di conoscere persone stupende che hanno grande cultura e grandi competenze, sono stati i punti di riferimento e soprattutto il punto che mi ha permesso di dire se torno in politica e faccio questo viaggio, lo faccio perché i miei concittadini mi danno una grande fiducia e soprattutto i miei cittadini hanno bisogno di qualcuno che porti voce all'interno dei consigli comunali. Non a caso sono riuscito a relazionarmi ad esempio con l'attuale Presidente della provincia per realizzare il marciapiede sul ponte Filomena degli Castelli che ci connette tra il Porto Allegro di Montesilvano e la nostra Torre Costiera, una via che purtroppo presenta enormi problematiche che in 30 anni nessuno ha mai affrontato. Mi sono inserito inoltre e sono riuscito anche a farmi ascoltare dall'attuale amministrazione con l'ampliamento di quello organico di polizia locale che trova almeno 5 nuove unità, ma non solo, sono riuscito a togliere quella discarica abusiva davanti alla scuola e mi ripresento perché mi chiedo e la mia risposta è che qualcosa ci sta. Bene, proviamo a entrare un po' nel merito, oltre 60 km quadrati, Città Sant'Angelo diciamo che rappresenta anche uno dei borghi più belli d'Abruzzo ma va considerata anche un'area un po' più estesa verso la marina di Città Sant'Angelo. Come pensare a uno sviluppo di un territorio così vasto sia sotto l'aspetto urbanistico ma anche per quel che riguarda le attività economiche? Matteo Parazzetti. Le attività economiche sono preponderanti nell'economia della nostra città, noi abbiamo dato estrema attenzione alle attività economiche sul nostro territorio che hanno visto crescere gli investimenti sul nostro territorio. Immaginiamoci che dal 2019 con una pandemia di mezzo che aveva e ha falcidiato tantissime attività economiche, i dati suop del nostro territorio prevedono 100 attività in più rispetto al 2019, cioè quindi ante Covid. Abbiamo avuto grandissimi investimenti, immaginiamoci l'Aurum per 15 anni abbandonata a se stessa e dal 2020 un imprenditore con cui ho interloquito nello stesso anno ha investito dei soldi per rifunzionalizzare un'area industriale in disuso ricomprata da Ilva e oggi vede sede dell'Aurum che vedrà un nuovo futuro soprattutto di imprenditoria all'interno del nostro territorio. Ma lo stesso Ibisco, nel 2019 l'Ibisco che le precedenti amministrazioni di cui oggi alcuni componenti si ricandidano avevano spento le luci, lasciate l'abbandono con gli operatori economici totalmente in una situazione di disagio perché non vi era nemmeno l'antincendio attivato, quindi in una totale non conformità di apertura siamo arrivati, abbiamo riacceso le luci, abbiamo fatto manutenzione, abbiamo riattivato l'antincendio e oggi è uno dei poli commerciali più ambiti. Ma non solo questo, immaginare un territorio, uno sviluppo di un territorio come quello nostro parte da lontano. Nel 2021 questa amministrazione interloquendo con l'ex assessore Liris e Marco Marsiglio nella ridisegnazione della Carta dei diritti di Stato ha inserito Città Sant'Angelo ed altre comunità all'interno della Carta dei diritti di Stato. Questa operazione fatta in lo tempo l'ha portato oggi con la riforma della ZES nel centro-sud Italia a far rientrare il comune di Città Sant'Angelo negli 84 comuni finanziati dalla ZES. Voglio sapere chi avrebbe mai pensato una cosa del genere. Questa amministrazione l'ha pensata e l'ha fatta. Di Silvestre invece qual è la sua idea di sviluppo economico-urbanistico di Città Sant'Angelo? Bisogna partire un po' da lontano. Se Città Sant'Angelo ha avuto nel corso degli anni un notevole e rilevante sviluppo economico e commerciale, certo questo va riconosciuto per l'attività che è stata svolta in precedenza dalle amministrazioni comunali che hanno preceduto quella in carica. Non scordiamoci che quelle attività commerciali, quelle di maggiore rilevanza economica anche in termini di capacità occupazionale vengono da lontano, vengono da altre amministrazioni che hanno governato Città Sant'Angelo, amministrazioni di centro-sinistra che in maniera lungimirante hanno pensato che queste attività potessero fare la fortuna del territorio, attività commerciali, attività industriali che fanno di Città Sant'Angelo un comune che ha notevoli capacità da questo punto di vista. Quindi bisogna dare merito anche a chi ha preceduto l'amministrazione attuale all'impegno che è stato profuso perché Città Sant'Angelo diventasse un comune assolutamente importante da questo punto di vista. Noi abbiamo un'opportunità che è quella della grande Pescara, di questa grande conurbazione urbanistica che prossimamente ci sarà, Città Sant'Angelo deve essere pronta a vivere questa esperienza in maniera positiva, non subire e invece a rendersi protagonista anche per il prossimo futuro, il suo territorio è un territorio grande, è un territorio vario, ci sono tantissime aree che hanno molto pregio, noi riteniamo che lo sviluppo economico non possa essere mai a discapito della vivibilità e della sostenibilità e quindi molta attenzione a quelle che saranno le scelte future anche in questi termini di sostenibilità e vivibilità del territorio. Stefano Servacini. Sì, dunque innanzitutto ci concentriamo su due aspetti principali, il metodo e l'educazione, non a caso le metto in questo momento la firma sul nostro programma che le consegno manualmente, che cosa significa consegnarle un programma e mettere una firma su un programma? Significa mettere nero su bianco, non a caso siamo l'unica lista che si è presentata in bianco e nero, per andare ad analizzare tutto quello che è accaduto e che sta accadendo. Ci sono informazioni che noi non ancora abbiamo purtroppo e c'è un metodo da seguire, il metodo è quello della partecipazione e del programma dinamico. I nostri concittadini molto spesso non hanno partecipato a nulla, non perché fossero immeritevoli, ma proprio perché la politica non gli ha dato questa possibilità. Che cosa significa tutto questo? Significa creare un programma amministrativo dove la partecipazione e la solidarietà siano le chiavi centrali e queste chiavi centrali ci portano al primo aspetto della Marina, quello che è il piano di una mobilità. Molti non sanno che oggi le linee regionali degli autobus si fermano su una strada a tre corsie, non c'è una fermata dell'autobus regionale e ogni volta che qualcuno la prende c'è un pericolo per la salute dei nostri concittadini nel prendere un autobus. Nessuno in 30 anni ha mai pensato che in via Mulino del Gioco potesse sorgere ad esempio una fermata di un bus regionale, ma nello stesso piano, perché è sempre un piano turistico generale di coinvolgimento e di coordinamento, manca ad esempio una fermata un bus che è un bus che colleghi le attività commerciali dalla Marina fino alla Madonna della Pace e che permetta un collegamento tra la Marina stessa, Città Sant'Angelo e Montesilvano che farà parte della Grande Pescara. Un altro macro tema molto interessante, un po' per tutti, ma in particolare per Città Sant'Angelo e tra poco vi dirò il perché è quello dell'ambiente. Sulle cronache regionali nei mesi passati ha tenuto banco alla vicenda del biodigestore, è solo un aspetto del macro tema dell'ambiente riguardo a Città Sant'Angelo. Prezzetti sul biodigestore e poi considerazione generale su questo tema. Il biodigestore è entrato nell'operazione della fusione di ambiente SPA già dal 2017 quando si era iniziato ad interloquire proprio perché ambiente è nata essa stessa nel discorso della costruzione di impiantistica, in alternativa non si avrebbe assolutamente nessuna tipologia di vantaggio in questo senso. L'ambiente ha acquisito un terreno appresso Città Sant'Angelo, una zona piena di sacco dove insistono altre strutture che fanno quel tipo di trattamento di rifiuto. Il biodigestore tratta la differenziata, la raccolta dell'umido, quindi di una frazione che non è assolutamente tossica, chiedo naturalmente nel dire che questa cosa avvenga. Noi come amministrazione all'interno di ambiente SPA, così come hanno fatto altri comuni, abbiamo accolto questa proposta. È stato messo in bando, da quello che so però questo bando ha delle difficoltà perché oggi la riqualificazione di tutti quanti la frazione dell'umido all'interno della regione Abruzzo, se lo dobbiamo dire tutta, prevede la costruzione di già quattro altri biodigestore tramite i fondi PNRR. Questo oggi porterebbe a una antieconomicità dello stesso impianto. Se pensiamo che la frazione di umido costava 140 euro la conferimento qualche anno fa e ad oggi si è abbassata a 60. Quindi questa cosa ha portato ambiente un attimino in una fase di stand by e di visione un attimino dell'antieconomicità. Pensare però che non ci debbano essere forme di impiantistica oppure continuare a pensare nella maniera più ancestrale che fino ad oggi ha contraddistinto l'Italia, di poter prendere l'immundizia e metterla sotto il tappeto oppure portarla fuori ma poi lamentarsi naturalmente degli elevati costi, quello un'amministrazione non la deve fare. Noi quello che abbiamo sempre fatto è la massima vigilanza e siamo al massimo in perterriti nel far rispettare le leggi, così come abbiamo fatto per altri impianti lì vicino dove altri amministratori avevano dato le autorizzazioni. Noi li abbiamo contestati anche in fase di tribunale, abbiamo avuto diversi processi nella quale molto probabilmente altri conoscono gli esiti di questi processi. Esilberto? Sì, diciamo uno dei punti principali del nostro programma, del programma della nostra lista è la contrarietà alla realizzazione del biodigestore nella zona di Piano di Sacco di Città Sant'Angelo, in continuità con quella che è stata l'attività dell'opposizione comunale nei confronti dell'attuale amministrazione, c'è stata sempre contrarietà e ci continua ad essere. Noi pensiamo che il biodigestore sarà fonte di notevoli problemi sul territorio di Città Sant'Angelo anche dal punto di vista della viabilità che già soffre parecchio perché prevederebbe necessariamente che un numero rilevante di mezzi debba attraversare il nostro territorio per raggiungere la zona di Piano di Sacco. Noi riteniamo che l'amministrazione comunale di Città Sant'Angelo, che è stata sempre a favore della realizzazione del biodigestore come risulta pacificamente dagli atti adottati in Consiglio comunale, solo di recente abbia fatto, abbia detto che non è più d'accordo su questa infrastruttura, però noi riteniamo che siano solo parole che vanno contro quelli che sono gli atti adottati dall'amministrazione ad ambiente SPA, che come diceva il Sindaco ha già acquistato un terreno per l'importo di 560 mila Euro, ha ritenuto che vi fosse una convenienza economica alla realizzazione di questo impianto che, lo ricordo, da 16 milioni di Euro arrivato a 32 milioni di Euro, quindi con un raddoppio delle quantità di rifiuti da inserire all'interno di questa struttura, compatibilità economica che per quanto ci riguarda non c'è, tant'è che la società ambiente SPA ci risulta abbia conferito un nuovo incarico ad un'altra società per verificare se effettivamente questa compatibilità finanziaria c'è effettivamente e quindi questo conferma il fatto che continuano ad esserci fondati i dubbi sulla realizzazione di questo impianto. Serrecini. Dunque la politica dell'ambiente è il cuore principale del nostro programma, innanzitutto perché l'ambiente è in esatta correlazione con gli individui, che cosa significa? Significa in un, mi perdoni la definizione, falso che è stato appena detto, cioè un biodigestore non produce sostanze inquinanti, è un falso, un biodigestore produce digestato, il digestato è un sistema tecnico che ha parti organiche e parti inorganiche che deve essere smaltito all'interno del terreno e potete chiedere lungo il corso del Po a chiunque abbia utilizzato la parte del digestato per smaltirlo che quel materiale crea desertificazione ed impossibilità di coltivare in qualunque zona. Non a caso lo stesso digestato è vietato dalla legge per le coltivazioni. Quindi innanzitutto l'ambiente ha nel carattere principale il compostaggio di prossimità, che è un sistema tecnico semplicissimo, cioè quello di utilizzare i propri rifiuti dell'umido in una compostiera inserita all'interno delle singole e relative contrade, crearne quello che la natura fa, cioè un'attività fertile che ripermette invece la coltivazione e l'utilizzo e questo si può fare anche andando a rivendere ai nostri coltivatori, perché siamo un territorio della maggioranza di agricoltura. Ma soprattutto queste politiche di ambiente di cui si viene e si parla riguardano per esempio l'attività di San Martino. A San Martino c'è un'area grande come un centro commerciale che non è mai stata valorizzata ed è sempre stata lasciata all'abbandono da 30 anni. L'ex vivaio del Fiore non è mai stato utilizzato. Abbiamo proposto in Consiglio Comunale di farvi un bocciodromo polivalente con il tiro con l'arco, ma soprattutto e dove siamo andati a fare campagna elettorale? Siamo andati a farla nei parchi, cioè nelle zone in cui sono stati lasciati all'abbandono da tutte le precedenti amministrazioni. Ci stiamo avviando la conclusione, ci sarebbero tante cose da dire. Io andrei per importanza e per quanto riguarda le amministrazioni comunali è inutile nasconderci. Il tema più importante è quello dei fondi PNRR. Città Sant'Angelo come intende cavalcare quest'onda? L'abbiamo cavalcata e l'abbiamo cavalcata molto bene. Siamo stati uno dei comuni più attivi e ce l'hanno riconosciuto naturalmente tutti quanti. 30 milioni di opere pubbliche, 8 scuole su 10 del tutto ristrutturate e rifunzionalizzate. Abbiamo preso i fondi per la riqualificazione dell'ex manifattura Tabacchi per 1.800.000 euro. Stiamo realizzando il primo asilo nido da 60 posti per 1.800.000 euro. Pochi giorni fa ci è stato assegnato un altro fondo per un ulteriore asilo nido da 864.000 euro che realizzeremo a fondo umano. Abbiamo realizzato quella che è la riqualificazione della costa. Stiamo realizzando quella che è la riqualificazione della costa. Credo che sul PNRR più di noi non c'è stato mai nessuno. Quella cosa bella è che comunque questi fondi che noi stiamo utilizzando, come sapete, è facile dire si è costruiti perché c'era il PNRR. Ma il PNRR ha due step importanti. Uno, il presentarsi con una progettazione, uno studio di fattibilità avanzato, se no in alternativa non si accede assolutamente a nessun tipo di fondo. Due, bisogna riuscire a realizzare e rendi contare entro il 2026. Noi abbiamo attivato l'ultimo progetto che si è avviato, è la ristrutturazione di una casa dalle donne vittime di violenza. Abbiamo pensato anche a questo. Abbiamo preso e abbiamo lavorato su tutti gli asset che il PNRR ha messo in campo. Abbiamo interloquito ad esempio con le società e le istituzioni sovracomunali, come ad esempio Ater. Ho sentito che qualcuno diceva che noi non c'entravamo nulla nella ristrutturazione di tutte le case popolari, così come l'efficientamento delle case popolari nel nostro territorio. Sfido chiunque, Mario Lattanzio e il Presidente dell'Ater, a poter dire quante volte c'è stata l'interlocuzione nostra e oggi si stanno avviando la ristrutturazione e riqualificazione di un'area lasciata da abbandono. Sul PNRR penso di aver fatto un attimino un grande lavoro insieme a tutta quanta la nostra squadra che ha saputo lavorare in sinergia. Abbiamo parlato di 30 milioni, solo 15 milioni sulla viabilità e la risoluzione di diversi distesti idrogeologici. Sul PNRR siamo abbastanza inattaccabili. I fondi PNRR nella visione comune di Godi Silvestro? Sì, noi pensiamo che, diversamente da quello che ha detto il Sindaco Perazzetti, che invece questi fondi PNRR non siano stati utilizzati nella maniera più adeguata e più utile per la collettività e per il territorio di Città Sant'Angelo. Noi rileviamo anche che ci sono stati diversi interventi che invece rientrano nella normale manutenzione dovuta ai cittadini del territorio comunale, opere che anche sono state poste in essere nell'ultimo periodo dell'amministrazione comunale. Noi riteniamo che le opere da realizzare con i fondi del PNRR debbano essere opere strategiche, strutturali di lungo periodo che possano veramente essere utili per la collettività, non solo per i prossimi 5 anni, ma anche per il prossimo futuro e per il prossimo medio termine. Quindi riteniamo che da questo punto di vista si poteva e si doveva fare di più, rileviamo che vi sono delle iniziative che invece noi riteniamo assolutamente fondamentali, come la riqualificazione dell'Istituto Radio Tecnica, della Fraternità Magistrale, delle attività relative soprattutto alla riqualificazione della zona costiera e noi da ultimo riteniamo che queste attività, questi fondi debbano essere utilizzati anche in previsione, come dicevo prima, della nuova Pescara, facendo in modo che ci sia interconnessione anche dal punto di vista della viabilità tra la strada Parco e la zona di Marina di Città Sant'Angelo, realizzare la fermata della ferrovia a Marina di Città Sant'Angelo, definire al meglio e in via ultimativa la viabilità che corre tra Città Sant'Angelo e Silvi Marina, opera che ancora non è stata conclusa e che invece è importante per il sistema della mobilità e della viabilità di tutta quell'area Marina di Città Sant'Angelo. Serecini. Dunque, per quanto riguarda i fondi PNR, parliamoci chiaro e diamo un paio di informazioni ai nostri concittadini. Entro il 2026, entro il 30 giugno 2026, tutti i lavori devono essere completati, il che significa che una volta eletti sarà più una caccia ad un tentativo marketing di proporre qualche progetto che di andare realmente a poter realizzare qualcosa. Sicuramente nelle progettazioni che sono state già fatte dal nostro ente comunale non abbiamo alcun interesse a bloccare dei lavori proposti, ma quello che ci siamo caiesti è qual è l'efficacia di un piano e di un progetto che una politica è andata a realizzare senza il coinvolgimento delle persone e senza la partecipazione. La partecipazione perché è fondamentale? Perché quando si va ad esempio a utilizzare dei fondi si vanno ad utilizzare per costruire un asilo nido e poi non si dice se questo asilo verrà gestito in maniera pubblica o in maniera privata. Questo già è uno dei principali problemi. Quando dei fondi PNRR, che se volevamo utilizzarli avremmo rimesso a posto un'area che è quella di San Martino Bassa e sarebbe diventata il fiore all'occhiello della Marina, avremmo potuto riproporre finalmente una gestione dell'ambiente della rivalurizzazione dei parchi. Quando ad esempio si va ad accedere a dei fondi ZES, fondi di economia speciale che sono stati dati dal Ministero a tutti i comuni inerenti al mezzogiorno e quindi a cercare uno sviluppo industriale. Che cosa significa il sviluppo industriale? Significa mettere solo delle ceminiere e continuare a fare lo stesso inquinamento che c'è all'uscita dell'autostrada e nessuno ha pensato alla riqualificazione dell'aria, nessuno ha pensato all'affito depurazione da utilizzare nella Marina quando siamo stati il primo comune ad utilizzare l'affito depurazione per la depurazione delle acque nere. Quindi utilizzare dei fondi del PNRR significa poter fare delle opere che servono quando sono partecipate. Noi abbiamo assistito all'assemblea contro il biodigestore che è stata una propaganda, non un ascolto politico verso delle soluzioni condivise. Quindi condividere e partecipare significa utilizzare al meglio i fondi PNRR. Siamo andati oltre il tempo che ci è stato consentito per cui in chiusura un appello flash agli elettori. Matteo Parezzetti. Di continuare a far crescere questa città, di continuare a far crescere e dare di nuovo fiducia a quella squadra che ha realizzato e che non guarda o non osserva, bensì dare quella fiducia a quelle persone che si sono contraddistinte per il loro impegno senza riesumare vecchi amministratori che hanno ridotto l'amministrazione a quello che noi avevamo preso nel 2019 con tutti i dati del tutto negativi e con un decremento della crescita della nostra città. Continuare su questa strada per noi è la cosa fondamentale per poter oggi continuare a cavalcare quella zona e quella nostra città che possa diventare protagonista come lo è stato in questi anni con il 118, la ZES e tantissime altre iniziative che mai nessuno aveva pensato, ma soprattutto anche dire ai cittadini che l'elaiotecnica non è del proprietario del Comune e quindi non si può utilizzare per la PNRR. L'invito è a votare la nostra lista per cambiare le cose, per dare a Città Sant'Angelo delle opportunità ulteriori sia perché Città Sant'Angelo ha un territorio invidiabile, ha un territorio che al suo interno prevede un centro storico che noi riteniamo debba essere ulteriormente riqualificato e possa diventare veramente punto di riferimento non solo della provincia di Pescara ma di un territorio ben più ampio, di sfruttare le sue capacità territoriali con un turismo che possa essere veramente esperienziale e che quindi possa veramente utilizzare il nostro territorio al meglio. Noi riteniamo che le nostre idee del programma siano come abbiamo detto visionari e lungimiranti guardano al futuro, il nostro obiettivo è quello di far tornare Città Sant'Angelo grande e di dare ai cittadini e alla comunità delle possibilità veramente di poter continuare a svolgere il suo ruolo nell'area dove insiste e che queste attività dovranno essere portate a compimento nel migliore dei modi e la nostra squadra che ha competenze e professionalità di rilievo sarà capace assolutamente di portare a compimento il nostro programma elettorale, quindi l'invito a darci fiducia, a metterci alla prova, i cittadini non se ne pentiranno. Che cosa ci sta? Ci sta nel nostro programma mettere al centro l'essere umano, ci sta sviluppare conferenze, mostre e spettacoli, ci sta un piano di ripopolamento del centro storico, ci sta che cittadini, società, associazioni sportive, volontariato e scuola si coordinino per sviluppare la nostra città, ma soprattutto ci sta un programma che va con calma, siamo stati definiti la città slow e qui si vuole far correre senza andare da nessuna parte, ci sta essere e stare con calma, ci sta stare con i piedi per terra, ci sta voler sognare, ci sta il primo sindaco che può essere finalmente un sindaco che proviene dalla Marina di Città Sant'Angelo, ci sta rivalorizzare una San Martino che è stata lasciata a se stessa, ci sta una filosofia che abbiamo imparato dai concittadini di Villa Cipressi dove la democrazia non è una lotta o una caccia all'uomo, è una collaborazione, è una visione ma soprattutto una vita e non un guardare, non un crogiolarsi ma un vivere insieme lo spirito di democrazia che Sandro Pertini definiva, io non combatto perché tu non possa esprimerti, io combatto la tua idea ma mi batterò fino in fondo perché tu possa esprimerla e avere un'opportunità. Grazie Seracini, abbiamo in sottofondo la sigla per cui vi saluto qui, ringrazio i candidati Matteo Perazzetti, lista Siamo, Godisilvestre, Visione Comune, Stefano Seracini ci sta, Seracini è sindaco e soprattutto andate a votare, una buona serata a tutti voi.